Oggi o in questo tempo ti senti un piccolo, un pitocco, come suggerisce l'originale greco, cioè uno proprio che non vale niente, pensi di essere troppo debole, di non farcela con certe situazioni, ti senti proprio piccolo così nei confronti degli altri, ti senti debolissimo, fragilissimo. Forse oggi stai sopportando un peso che non ce la fai apportare, forse quella relazione che ti sta distruggendo e non riesci a essere te stesso, no, non ce la fai, vorresti poter affermare le tue idee, anche esprimerle, ma non ce la fai. Ti senti sopraffatto dalla personalità dell'altro, dalla forza, dalla cultura, dai sottili ragionamenti dell'altro e tu non sai opporre nulla, soltanto la tua povertà, la tua debolezza, la tua timidezza. Quello che intende il Signore nel Vangelo di oggi è la piccolezza vera, quella che ti fa sentire inadeguato, inutile tante volte, incapace di risolvere certi problemi, per esempio con tuo figlio, con tua figlia, niente, non è possibile, vorresti poterli aiutare e invece non ce la fai, non hai parole, non ti ascoltano, piccolo, piccolo così, anche come prete forse nella parrocchia o nella missione. Sei piccolo? Sei piccola? Per la vecchiaia? Perché ti hanno lasciato in un ospizio? o perché sei a casa lì su quella poltrona, come un soprammobile, vorresti poter aiutare, vorresti poter dire la tua, ma niente, sei lì, ti portano l'acqua, ti aiutano, ma sempre un soprammobile sei, non ti consultano più. Insomma, sei piccolo? Sei piccola? Beato te, beata te, perché a Dio è piaciuto rivelare ai più piccoli la cosa più grande, il suo amore crocifisso, che non va in cerca della grandezza umana, ma della povertà, della piccolezza, della fragilità, di te e di me, piccoli. Perché, come dice San Paolo, quando sono debole, quando sono piccolo, è allora che sono forte, perché nella mia piccolezza, in ciò che oggi stai sperimentando, che ti limita e che ti umilia, in ciò che tu sei, può apparire perfettamente la potenza di Dio, perché la tua piccolezza è lo scrigno, dove, come in un tempio, Dio ha deciso e ha scelto di abitare, di farsi carne, perché attraverso di te vuole annunciare lo splendore del suo amore, che si china sui piccoli e, abbracciandoli sulla croce, li fa sedere tra i santi, alla sua destra. Già oggi, in Cristo, pur piccolo sei seduto, alla destra del Padre, vivi, cioè, nell'intimità di Dio.